Lavoro, piano nazionale di ripresa e resilienza, accoglienza dei profughi ucraini sono alcuni dei temi trattati oggi alla conferenza provinciale permanente che si è insediata a Varese, a Villa Recalcati. Conferenza che è uno strumento di consulenza dei prefetti per il raccordo con gli enti locali. I profughi provenienti dall'Ucraina presenti in provincia sono quasi 6.800 e di questi 1.400 hanno già un permesso di soggiorno. La situazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni si preannuncia molto problematica. Si fa molta fatica a fare tutto quello che c'è da fare con risorse sempre più limitate e in vista anche di pensionamenti ormai imminenti. Per il Presidente della Regione, Attilio Fontana, la gestione degli arrivi dei profughi ucraini è stata virtuosa grazie alla collaborazione tra prefetti, enti territoriali, associazioni di volontariato e Regione. Riguardo al PNRR ho fatto presente proprio recentemente al Presidente Draghi che esistono alcune difficoltà da parte dei comuni nell'interpretare, nel realizzare, nel rispondere ai bandi che provengono dal Ministero. Dovranno essere rivisti.